Hai qualche tips per quanto riguarda come creare delle campagne che abbiano, diciamo, una maggior resa o se esistono degli approcci? Io sono rimasto fermo, tra parentesi, anche io facevo Google AdWords una volta, quando era in voga la SCAG, quindi ero diventato un mago della SCAG, poi ho smesso di fare advertising e quindi non sono più in linea con tutte, diciamo, le ulteriori novità o tipologie. Hai qualche, diciamo, campagna o tipologia di campagne? Anzi, se avete domande fatele senza remore. Allora, purtroppo, appunto, le vecchie, cari, amate SCAG non esistono più, la corrispondenza delle parole chiave è andata in buona parte a farsi benedire, quindi, appunto, oggi funziona molto meno. In dei casi può ancora avere senso, ma si tratta di casi particolari. L'esempio più tipico, prendiamo, in esempio, un e-commerce di subentrare su un account che ha una P-Max. Il classico P-Maxone con tutto il catalogo, vai Google e divertiti, impostandoti in Rawls. Qua ci incontriamo subito con delle problematiche. Intanto, questa campagna gli viene dato probabilmente in passo, se prendiamo il classico esempio dell'intero catalogo, migliaia e migliaia di prodotti, noi vedremo che ci sarà un piccolo lotto di prodotti che effettivamente gira e vende, un lotto di prodotti che probabilmente genera dei costi, ma non delle vendite, un lotto di prodotti mai esposto, che di fatto non ha mai ricevuto click in una maniera significativa. E qui... Viene favorecita dagli altri, immagino. Esatto. Uno click perché... Perché, appunto, se l'intelligenza artificiale gli viene detto, cara mia, mi devi garantire questo minimo ritorno sull'investimento. Lei delle cose sa che vendono, delle cose non lo sa, se non ha il margine per accollarsi il rischio di vedere che cosa succede su quelle che non lo sa, non lo dimostrerà mai e continuerà a insistere fra quelle che conosce. Se fra quelle che non sa ce ne fossero di migliori, non lo scoprirà mai. Quindi, una delle prime ottimizzazioni che si può andare a fare è quella di spezzettare la campagna tra best seller, quelli di cui invece non sono best seller, ma comunque hanno una certa capacità di vendere a cui possiamo impostare un ROAS, e infine quelli che non hanno mai venduto, o meglio, non hanno mai avuto un'esposizione, e provare ad esporli. Qui, quindi, accumuleremo un certo numero di click e impressioni su questi prodotti e decideremo quindi se effettivamente questo prodotto non aveva senso che stesse sul mercato, oppure se ha le caratteristiche per. E veniamo subito a un problema. Ipotesi. Io ho un tasso di conversione del 2%, quindi ogni 100 persone che mi vedono il prodotto, 2 mi comprano. Se mi arriva male i dati, al di là dell'intelligenza artificiale, ma io mi perdo una di queste transazioni, cosa frequentissima, io finisco per determinare che quel prodotto non fa per me, non ha speranze, tirandolo fuori dalle campagne, soprattutto perché oggi in realtà in questo ci aiuta tantissimo sul catalogo importante l'utilizzo di alcuni script che vanno a fare un'etichettatura automatica del prodotto in funzione dei risultati, quindi ad ogni prodotto associo un'etichetta in base al risultato che il prodotto, alle prestazioni che il prodotto ha avuto, spostandolo quindi nelle varie campagne in maniera automatica. Così cambiano i ROAS, cambia e quant'altro. Ecco, se qui ci viene a mancare una di queste informazioni, anche andando a controllare manualmente, quindi al di là dell'AI, noi ci ritroveremo davanti a un dato che ci potrebbe far prendere decisioni errate. Quindi diventa molto molto importante conoscerle tutto, soprattutto sui piccoli numeri, dove in questo caso saremo costretti ad andare a capire da altre vie se è avvenuta una vendita, ma è pressoché impossibile, oltre che molto faticoso. Quindi diciamo che oggi molto spesso ciò che si suggerisce di fare, quindi quello di dividere i prodotti il più possibile, quindi primo step di divisione, la marginalità. Su questi prodotti che margine ho? Quindi già con una distinzione di immagine mi dà un'indicazione diversa su quanto posso sperare di guadagnarci. Dopodiché, il prezzo di quel prodotto, fra due prodotti a pari immagine, uno da 10 euro e uno da 1000, è ovvio che mi interessa di più vendere il secondo. Questo va sempre fatto a stretto mani con il proprietario dell'azienda, perché per virgolette, se ho il magazziniere che gli avanza tempo, il mio obiettivo è che lui faccia pacchi tutto il giorno. Se il magazziniere sono a tappo e mi sto domandando se assumere il secondo, beh, in quel caso lì, intanto facciamo mandare i pacchi più profittevoli al magazziniere che ho. Dopodiché valutiamo se integrare il secondo. A tutto questo, però, appunto, va associato il fatto che dobbiamo permettere ad ogni nostro prodotto di avere quella visibilità minima, un'impressione, click e conversioni, affinché ci fornisca un dato statistico rilevante. Quindi, tanto meglio noi tracciamo questo dato, tanto prima avremo questo dato. E questo dato costa, ipotesi, il mio catalogo è di mille prodotti e 500 vendono bene e 500 no. I 500 no, li voglio portare tutti ad almeno 100 click per vedere se statisticamente nascono queste due vendite che mi aspetto, visto che ho un tasso di conversione meglio al 2%, beh, 100 click per 500 prodotti e ogni click che mettiamo, che costa 50 centesimi, si fa la svelta a tirare su delle belle cifrettine. Quindi, una delle strategie che possiamo adottare è quella di prendere i prodotti best seller, campagnetta dedicata, i prodotti intermedi, campagnetta dedicata con un ROAS minimo, i prodotti non lo so, e a piccoli dotti cominciamo a erogarli e quindi investiamo una piccola percentuale su di loro per vedere come va. Quando non abbiamo nessun dato, comunque il nostro dato diventa estremamente inattidabile, siamo costretti a fare un downgrade e a tornare a tecnologie meno efficaci. In dei casi, non è che siano necessariamente sbagliate, faccio un esempio, io posso anche, per estremis, andare a fare una campagna shopping standard, anch'essa in ROAS, o in massimizza e clic con un tetto a CPC, o addirittura CPC manuale, se voglio forzare l'esposizione di un determinato prodotto, però è ovvio che questo mi costringerà ad un alto livello di controllo umano, e il controllo umano, ben o male, gestisce con minor frequenza un minor numero di variabili, per cui è intrinsecamente meno efficiente. Lo si può utilizzare, appunto, in momenti particolari, ipotesi. Cambio di stagione, dalla mattina alla sera, sul mio e-commerce, smette di vendere il catalogo invernale, parte quello estivo, la I avrà una certa latenza a cogliere questo cambiamento nella mente degli utenti, un umano lo può fare in tempi più brevi, ma quasi sempre, proprio per come ho strutturato Google Ads, le due cose coesistono. Io manualmente intervengo, di fatto do un segnale alla I, che quindi recepirà questo cambiamento, e più velocemente amplierà e potenzierà la mia strategia. Quindi oggi, con l'esempio dell'e-commerce presso in mano, di fatto, il grosso del lavoro è avere tanti, tanti, tanti dati, molto dettagliati, molto segmentati. Questa cosa si ripercuote in tutto l'ecosistema di Google, perché noi da una parte abbiamo l'account Google Ads, il Merchant Center, prestiamo sempre attenzione al nostro Merchant Center, vi consiglio, come sempre, di crearne più di uno, dove nel Merchant Center di base, noi avremo il nostro catalogo standardizzato, nei servizi di shopping comparativo che andremo a utilizzare, metteremo il nostro catalogo accogliendo delle varianti, cambio foto, cambio titolo, esempio semplice. Vendo di più, se metto in vendita le mie scarpe, scarpa Nike rossa, modello squalo rossa, taglia 42, o scrivendo scarpa Nike, nome e modello della scarpa. Questo dipende dalla query dell'utente. Nello stesso Merchant, ho difficoltà a far coesistere entrambe il prodotto, perché hanno lo stesso GTIN, quindi in un Merchant metto la taglia e il colore tra le variabili, per cui se l'utente cerca rosso e taglia, esco con l'annuncio preciso, verso l'utente che invece mi fa una ricerca più generica, posso uscire con l'altro Merchant. Ma entrambi i Merchant dovranno fare riferimento allo stesso database, e quindi collettare tutti i dati relativi al prodotto, e quindi sul suo successo, anche in un unico luogo. Quindi devo vedere, questa campagna VendeX, quest'altra campagna VendeY, fanno riferimento allo stesso prodotto, su due Merchant Center distinti, in ognuno avrò le loro metriche comportamentali, sia nel vecchio Merchant che nel nuovo Next, è possibile fare il collegamento con GA4, o addirittura utilizzare un pixel nativo, che io ammetto che ne ho mai usato, e quindi importarmi tutti quei bei dati, dopodiché avere anche questo dato macroscopicamente raccolto, per poter appunto poi fare un'analisi più ampia a livello di catalogo. E questo penso che sia oggi una delle cose più importanti. È ovvio che, quando abbiamo un GTIN in particolar modo, quindi se siamo rivenditori, e andiamo a proporre sul mercato, un prodotto già presente su quel mercato, presso tanti altri reseller, dobbiamo molto occuparci, oltre che del prezzo, come immagino tutti saprete, perché appunto se io dichiaro a Google, che vendo esattamente lo stesso prodotto di un altro, Google la prima cosa che fa è, sei in linea con il prezzo, sei in linea con i tempi, e costi di spedizione, eccetera, eccetera. Se avete un Merchants negli Stati Uniti, avrete visto che lì vi dà tutto proprio quel grafico, dove vi fa vedere come vi siete posizionati rispetto ai competitor in tempi, costi di spedizione e quant'altro. In Italia questa cosa non è ancora visibile, però sostanzialmente noi addirittura arriveremo al paradosso, che dichiarando un GTIN, io mi dichiaro fuori dalla gara, prima ancora di iniziare la gara. Sono fuori mercato. Bene, in questi casi si può giocare, sporco, letteralmente parlando, andando appunto a, in un secondo Merchants, omettere certe informazioni, quindi non ti do il GTIN, e cerco di giocare la partita su una parte molto più alta del fan, di nuovo, invece che cercare la scarpa per nome, ma uno che mi cerca, scarpa da running, avrà di fronte a sé un atleto o radio offerte che non prevedono esattamente lo stesso prodotto, e in quel contesto posso emergere, anche quando non ho il miglior prezzo. Ovviamente la questione va spostata più nell'ambito servizio, perché comunque quella persona, altrimenti dopo poco risale al fatto che quel prodotto si può trovare in altri luoghi a migliori condizioni economiche, ma noi possiamo cogliere quell'occasione per fargli vedere che le nostre condizioni complessive sono migliori, migliori recensioni, miglior customer care, miglior, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Google Ads è sempre uno strumento al servizio, e si integra di tantissime informazioni. Dentro già quattro troviamo segmenti predittivi, che io da sempre mi piace tantissimo. Quindi la capacità di comunicare a Google un gruppo di persone che si prevede avrà questo comportamento, e quindi tenderà verso un acquisto, possiamo selezionare proprio l'azione non interessata, e quindi dare in pasto all'algoritmo dei dati che sono bellissimi. E questo penso che sia una delle cose più interessanti.